La Regione, il rinnovo di questa concessione anche in termini di ricadute economiche? Come è stato spiegato si tratta della concessione più importante in tutti i porti italiani, sia per il valore di quanto viene portato all'interno del porto di Trieste, sia per quanto riguarda anche il fatto che si tratta di uno dei siti più importanti che vanno a fare rifornimento di petrolio in Austria, in Germania e nella Repubblica Seca. Quindi siamo particolarmente orgogliosi di poter mantenere qui l'investimento, implementarlo ulteriormente e rafforzare i nostri rapporti non soltanto con l'autorità portuale ma anche con un'azienda come Siot che ovviamente pagando le tasse in Friuli Venezia Giulia è una delle aziende più importanti da questo punto di vista per quanto riguarda il bilancio regionale.